Grazie a tutti i organizzatori. Ok, vorrei parlare di alcuni risultati molto recenti su un modello di rigenerazione del tessuto cardico via terapia di cellulare. Questi risultati sono parte di un progetto jointe con l'Università di Lima, fondato da due entità peruvianze, ProSciencia e Concitec. E tra insieme matematici, statistici, scienziati computer, biologici e cardiologici. Questa è la corta linea della mia parola. Iniziamo con la inspirazione medica e biologica. Questa è la corta linea della mia parola. Questa è la corta linea della mia parola. Le damage ischemici causano la perdita di cardiomyociti, che sono subseguentemente ripensate da fibrotide, inizia a aritmia e a fibrotide. Le cellule di stemma hanno mostrato un alto potenziale per il trattamento di fibrotide, con la rigenerazione dei tessuti cardiociti e la contrattilità di cardiociti cardiociti. Nella storia existono diversi protocolli, ma in particolare i principali protocolli usati in questo caso sono l'injectione intramiocardiale che può essere fatta quando la terra è completamente esposta durante la cirurgia cardiociti. Inoltre ci sono l'injectione intracoronale e intravenosa delle cellule di stemma. molto recentemente, nel 2022, abbiamo pubblicato il primo modello molto semplificato di ingezione di stemma. Questi risultati sono già presentati da me in Arpino l'ultimo ottobre. e in questo modello abbiamo un'area necrotica ellipsoidale, un'area ellipsoidale con cellule inflame, e questa regione è l'injectione. Quindi in questo modello siamo interessati in questo caso della ingezione di migliori cardiociti. Queste sono le equazioni. L'equazione considera l'interazione tra le cellule di stemma e i nutrienti che qui produciamo la proliferazione delle cellule di stemma grazie alle nutrienti. cittadine. C'è anche un termo di morte per le cellule di stemma. E qui abbiamo tutte le condizioni iniziali e limiti per le cellule di stemma. In particolare abbiamo adottato una forma particolare per le condizioni di distanza nell'area dell'injectione. Sicuramente questa condizione è, in questo momento, arbitrale. mi considera che, in generale, stiamo cercando di avere molte interazioni con i medici, in particolare dell'Università di Lima, questo modello ha la grande difficoltà di avere molto piccoli risultati per quanto riguarda gli dati esperimentali. Quindi, per il nostro modello è ancora molto difficile determinare i vari parametri caratterizzano questo modello. Quindi, per esempio, possiamo, in questo momento, mettere iniziali e limiti per le condizioni. Questi sono i nutrienti. In questo momento, in questo modello, non abbiamo distinguito tra le differenti nutrienti, come, per esempio, l'oxigeno o il glucosio o qualcosa di questo. Qui c'è un termo di consumazione che è, sostanzialmente, in funzione di Hill e con la saturazione. E abbiamo, qui, un termo di fluxo da l'extensione. Questa è una constante. Non è una funzione di Heaviside, ma è una constante. e qui c'è un termo di feedback dipendente sul valore della concentrazione nutriente. Quando consideriamo tutto il modello, dobbiamo prendere in considerazione la chemoattraccia che abbiamo deciso di avere una formula radiale. della chemoattraccia che è, in questo modello, era completamente arbitraria in order di pulire le celli di stemme verso la regione necrote. della regione necrote. Questi parametri erano parte, ma molti, partecipi da la literatura. Inoltre, abbiamo dovuto fare un lavoro molto difficile un lavoro di attenzione dei parametri, rispetto, in ogni caso, fisiologici ma un attenzione in order di ottenere i risultati che abbiamo aspettato. Questo è, in qualche senso, un effetto di size di questo modello. Ma, dall'altro, può essere interpretato come aiutato dal modello matematico per i medici, perché, mi ripeto, in generale non sono capiti a comprare gli dati esperimentali per ottenere questi valori. Questo è la forma della condizione per le celli di stemme. di queste celli. Inoltre, tutti i valori dei parametri. Come sempre, abbiamo fatto una non-dimensionizzazione del modello. Quindi, possiamo vedere le prime simulazioni per questo molto semplificato modello. In questo caso, questa simulazione mostra il caso in cui non abbiamo una condizione dei nutrienti per le nutrienti. Le celli di stemme move verso la zona necrote. Questa è la zona necrote. La zona necrote aumenta a causa delle celli di stemme. che può vedere un'altra simulazione dove vediamo cosa succede per la riduzione dell'area inflamedica. senza le celli di stemme push la zona necrote a aumentare. Possiamo apprezzare questo quando seguiamo comportamento il comportamento dell'area inflamedica lungo questa linea e cosa succede? è che le celli di stemme move verso l'area necrote e push la fronte che è un problema di fronte di fronte verso il centro dell'ellipsoid perché l'area necrote sta diminuendo. Questa è un'altra simulazione nel caso quando abbiamo condizioni zero Neumann per nutrienti non possiamo apprezzare la variazione dei nutrienti in questa simulazione fixata scala in questo momento possiamo vedere che c'è una consumazione dei nutrienti nel caso in questo caso possiamo apprezzare la diminuzione della zona necrote perché la cella può ricevere altre nutrienti durante l'area del dell'area del dell'area del dell'area reale per riprodurare l'area dell'area dell'area del dell'area insatisfatto era il fatto che la chemo attrazione era arbitrariamente modellata da un'attrazione verso il centro dell'ellipsoid dell'area dell'area del dell'area necrote produce so called chemokines che send a signal to the to outside in order to recruit leucosides fibrous tissues that produce the angiogenesis and stem cells so we decide to reproduce this chemokines in our models and it is very interesting the fact that when stem cells are injected either injected or recruited by bones for example have a very interesting mechanism to pass through the blood vessels something was described by Professor Jaeger in his talk and we have a rolling phase and then a passage through the vessel walls at this point there is a chemotactic signal that pushes the stem cells to reach the injured site here there is another another picture very interesting because the chemo attraction is due to the stromal cell derived factor 1 also called CXCL12 and the cells we are using not we but physicians usually use the so called mesenchymal stem cells pass through the vessel are attracted by the stromal cell derived factor 1 and reach the damaged site it is interesting also in this picture that here the all the migration is described and here it is clearly indicated that there is a migration due to the SDF1 gradient concentration gradient so we decided to model the attraction by means of a new attraction term where the attraction is due to the gradient of concentration of the chemokines all the rest of the equations is similar to the previous model this is the formulation for the chemokines where the concentration the initial concentration of chemokines is due to the fact that before the stem cells arrive at the damaged area the chemokines are produced by for example by the macrophages so we have a concentration that we can decide again arbitrarily decide the formula the function described in this concentration but it is very interesting in some sense produce a model where we initially can follow the behavior of the chemokines and in a second time we can model the arrival of the same cells in the zoom where the chemokines have already diffused what is important and in this case we are still tuning the parameters the two simulations I will show you show this fact clearly show this fact what we want in our in our simulations in absence of experimental data make the 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 chemokines stay around the necrotic area without diffusing too much in the in the in the inflamed zone the equations for the nutrients are absolutely similar to the equations of the previous model and so we can see these are the parameters really fine-tuned by Silvia Marconi in her simulations I hope that these values can be considered by the physician as physiologically consistent and these are the first simulation here we have two terms sorry I forgot to show this part here we have a term that describes the interaction between stem cells and chemokines it is not clear at all what happens among chemokines and stem cells may may be that stem cells inactivate the chemokines for example other literature says that stem cells use chemokines as nutrients in any case there is some interaction among stem cells and chemokines on the other on the other on the other hand we have put a death term for the chemokines so in this case degradation let us call this term degradation term so we in our first simulation we simulated the situation with assence of degradation term and a very fine-tuned degradation terms and these are the what happens in the simulations in this case since we have no death term the the chemokines diffuse in all the area in this case they stay really very close to the necrotic area and this is very important because they have to attract toward the necrotic area the stem cells in the first simulation that I showed last October there was a very paradoxical phenomenon because the stem cells in our first simulation instead of being attracted toward the necrotic area were attracted by the chemokines so they completely ignored their duty that was to rebuild the necrotic area here is a simulation with unfixed scale where you can better appreciate the diffusion of the of the chemokines that is not uniform in the first simulation it appeared that it was uniform because but actually the chemokines overcome a threshold value and all the area seemed uniform but it was not uniform and here in a simulation with unfixed scale you can on the other hand appreciate the fact that the chemokines stay around the necrotic area attracting the stem cell when we tried to sorry here probably I already told you this fact here we have simulated only the behavior of the chemokines without stem cells the stem cells arrived in a second time because the chemokines must have the time to send their attraction signal when we pass to simulate the behavior of stem cell together with the chemokines we have some interesting results in this case we have not yet simulated the complete system where we have to insert also the nutrient dynamics here we have only two parts of this model these again are parameters that were obtained by by literature in part by fine-tuning and these are the first results that are partly interesting but partly have some defects the stem cells are attracted by the chemokines this is the case where there is no death term for the chemokines they do not degrade the stem cells are really attracted toward the center of the necrotic area but you cannot appreciate the shrinking of the necrotic area the shrinking of the necrotic area in these simulations is very very little you cannot appreciate this fact this is another simulation with a death term obtained with many after many simulations by Silvia Marconi the chemokines stay all around mainly all around the necrotic area the stem cells do not arrive to the necrotic area they approach the zone of where the chemokines are diffusing but in this case in this simulation they don't arrive even if we prolongated the time of the simulation in this case the stem cells do not arrive at the necrotic area so this fact induced our group to reconsider a physiological aspect that is not so clear in literature considering only paracrine effects in this zone so in some sense our idea in the next step for our project is to have a first step where the stem cells are attracted toward the center of the ellipsoid by the chemokines but then as some some paper suggests in this case they feel no more the effect of the chemo attraction of the chemokines but the attraction of other proteins that have only a paracrine effect only to the zone very close to them and this second paracrine effect could much more clearly to move the stem cells toward the necrotic area and begin the reconstruction of the damaged area so this is really a work in progress we are really trying to adjust the action that we obtained but let me repeat introducing a very arbitrary attraction toward the center that was not so physiologically consistent so what are the future perspectives as I told you before insert paracrine effects in the model describe the angiogenesis due to the creation of the the new cardiac tissue make some distinction among the different nutrients in the model to study the influence of temperature and pH on the model and consider different delivery protocol I forgot a very important fact as you observed we continued to describe the injection of the stem cells through an area A here because in fact if we consider a myocardial injection or if you consider intravenous or intracoronary injection thanks to the homing process we I showed before in fact all the injection protocol can be modeled by the injection of the stem cells in a part in that famous surface what we considered was that if we suppose that here we have a blood vessel the stem cells thanks to their homing process passed through the blood vessel in tissue in this zone so we can in any case represent the three main protocols delivery injection protocols by same boundary and initial condition even if obviously the values of the initial boundary condition must be varied taking into account the three different protocols this is an interesting fact for our model what we expect to to make in a second in a second step the face of stem cell differentiation but again literature in this in these models is absolutely not clear because someone says that stem cell differentiate and create the new layer of the rebuilt cardiac tissues but other literature says that in in fact stem cell push the stem cells present already present in the cardiac tissues to differentiate and recreate the cardiac tissue so in this moment what really happens when the stem cells reach the necrotic area is not so clear and we hope that the physicians that are collaborating in with us in this project can can help us in this sense as a little very little omaggio to Luigi let me recall the the very important papers written by Luigi technology on vasculogenesis and angiogenesis clearly they will be our reference our framework in order to generalize our model these are the our bibliography this is in particular the paper written in 2022 2022 so thank you very much for your attention and for your patience